Luca Romaioli ha vinto nella sua vita 17 scudetti tricolore, in discipline diverse e in categorie diverse. Sì, in quattro discipline diverse e nelle varie categorie tutte del tiro. Io se mi permetti vorrei dire una cosa a tutti i ragazzi che vogliono iniziare a sparare, ricordatevi di divertirvi, per cui provate non solo una disciplina sportiva che è del tiro-volo, cioè Compat, Fosso Olimpica, Fosso Universale, Dubletra, quello che sia. Cercate innanzitutto la vostra disciplina perché voi vi dovete divertire, divertire è la cosa principale perché purtroppo si spende parecchi soldi, per cui dovete cercare di divertirvi il più possibile. Questo è un consiglio che vi posso dare io. Poi c'è Daniele che sta iniziando in questo momento a sparare, vorrei che anche lui dicesse una sua opinione su questo. Beh, certamente io sto iniziando con la Fosso Olimpica e il percorso di caccia, che sono le due discipline che ho provato e penso che siano quelle che mi piacciono di più. Voglio provare lo stesso tutte le discipline che ci sono, come prova su me stesso di quello che riesco a fare, come divertimento, anche uscire tra amici perché il divertimento è anche quello. E anche se non ci sono buoni risultati voglio continuare finché magari riuscirò come Luca a fare degli ottimi risultati. Qual è la disciplina in cui tu ti diverti maggiormente? Il percorso di caccia. E tu Luca? Diciamo che in questo momento è il percorso di caccia. Io ho fatto ad ottimi livelli il double trap, sono stato anche in nazionale, Fosso Olimpica, Fosso Universale, ho fatto di mondiali. Però ti dico in questo momento qui che ho voglia di divertirmi e pratico molto di più il percorso di caccia, sia in pedana che itinerante. Adesso vorrei parlare un attimo di Armi Magazine, la più diffusa rivista in Italia per quanto riguarda il settore armiero, 272 pagine con un inserto di 32 pagine dedicato al tiro a volo. Questa settimana vi segnalo un articolo che si intitola Il ritorno della balistite, dedicato alla nuova cartuccia da tiro Winchester, particolarmente adatta ai climi umidi e alla stagione invernale. Un altro articolo invece è un'intervista alla tiratrice di Treviso Erika Gobbo, dal titolo Schittista per Passione. Mauro, che tipo di assistenza tu garantisci ai tuoi tiratori? Credo che possano garantire i tiratori qui presenti che siamo stati sempre particolarmente attenti e simpatizzati per i tiratori che vengono in azienda perché vogliono fare una regolazione, perché vogliono fare anche una riparazione e può succedere. Normalmente quando vengono si cerca di fare una riparazione celere o un'assistenza celere in quanto si sa che il sabato o la domenica dopo vogliono andare a sparare, quindi non puoi tenergli fermo l'attrezzo. Seconda cosa, nella nostra azienda vige l'upgrade del prodotto. Noi cerchiamo proprio, quando uno ci porta anche un fucile vecchio, che ha sparato molti colpi, che è stato utilizzato per parecchi anni, di proporre la rimodernizzazione dell'arma. Cioè cerchiamo di dire, ascolta, già che il fucile è qui, con pochi soldi puoi avere l'ultimo modello di monogrillo, puoi avere l'ultimo modello di strozzatore, puoi avere l'ultima regolazione. Questo ci permette, un po' come il software di un computer, di avere i fucili tutti allo stesso livello, quindi semplificazione negli interventi, semplificazione nei pezzi di ricambio, e ci permette, diciamo, anche di soddisfare il cliente che se ne va, dico, volando, in quanto dice, ma sono tornato col mio fucile usato e adesso c'è il fucile che sembra quello del mio amico che l'ha appena comperato. E ci permette anche di mantenere il valore del prodotto, in quanto fa sempre piacere sapere che il tuo attrezzo è moderno. Devo anche dire una cosa, una cosa interessante, lo 0-3 che non è stata detta. Cosa succede con lo 0-3? Lo 0-3 riceve tutti i benefici della squadra corsa, quindi del modello 100. Tante volte il modello 100 anticipa di un anno o di due anni le soluzioni tecnologiche che poi vengono messe in produzione sul modello 0-3 e questo, diciamo, è un grosso vantaggio. Non abbiamo detto quanto costa il modello 100. Allora, parliamo di prezzi, il 100 è un fucile che va attorno ai 2.500 euro, lo 0-3 è un fucile che va sotto i 1.500 euro, quindi pensare di sparare sotto i 1.500 euro credo che sia un enorme vantaggio. L'ha detto prima Davide Biserna, credo che le persone intelligenti guardino anche questo. Mauro, tu sai che una rubrica fissa di questa trasmissione è quella di Grillo Saggio, intitola Nel milione del Grillo. Tu sei uno dei pochi, insieme a me, a conoscere la vera identità di Grillo Saggio e so che siete anche amici e vorrei vedere insieme a te il brano di stasera che si intitola Riflessioni molto semplici. Bene, vediamolo. Riflessioni molto semplici. Piattelli impossibili non ne esistono. Teoricamente ciascuno di noi, ogni volta che va in pedana, può fare un bel 25 su 25. Però, oltre a poterlo fare, bisogna anche crederci. Quasi sempre il peggiore nemico del tiratore è se stesso. Di contro, i piattelli perfetti, nel più assoluto silenzio di una tiepida giornata col sole alle spalle, in assenza di vento e senza ombra sulle buche, li sanno rompere tutti. Ma quando fa freddo, piove e tira vento, i piattelli fuori tempo con la folla che rumoreggia e tossisce alle spalle, li prendono solo i campioni veri. Quelli che in pedana rompono tutto, tranne gli zebedei al prossimo, evitando di lamentarsi pateticamente a fine serie. I veri campioni sparano i piattelli, gli altri spaccano qualcos'altro. È vero, i veri campioni fanno il 25 e lo fanno in tutte le situazioni. Molti altri fanno il 25, una volta si sentono campioni, meglio aspettare a dirlo. Quindi Grillo Saggio ci ha azzeccato anche questa volta. Come sempre. Noi salutiamo il nostro amico Grillo Saggio. Davide, una delle tematiche che interessano molto Grillo Saggio, di cui lui parla sempre, di cui parla spesso, è quella del calcio. Calcio regolabile o calcio fisso? Calcio regolabile senza ombra di dubbio, perché il Genius PC, che diciamo è un argomento di mente che noi abbiamo utilizzato molto, è molto molto intelligente, soprattutto per il neofite, perché ha la possibilità, al di là della sua conformazione fisica, di poterselo adattare in tempo reale sul campo di tiro. Per cui è un estremo vantaggio a costi bassissimi. Oltre al Genius PC, voi offrite un altro servizio al tiratore per quanto riguarda il calcio. Sì, abbiamo convenzionato 5-6 calcisti che con una modica cifra di 250 euro, quindi ben lontano, di 700, 800, 1000 euro che chiedono, normalmente fanno un calcio a misura sui fucili marocchi. Mauro, il tempo a nostra disposizione sta finendo, noi ci rivedremo in una delle prossime puntate. Di cosa parleremo? Parleremo della nostra azienda e vedrete il percorso che fa un'arma prima di essere venduta. Io ringrazio molto gli amici del team RC Romagna. Vi aspetto con le trasmissioni, naturalmente. Laura, ti ringrazio. Grazie mille. Davide Biserna. Amici, vi ricordo l'appuntamento con noi è sempre venerdì sera alle 23.30 e vi do gli orari delle repliche. Questa puntata andrà in replica domenica alle 10.30 sul canale terrestre e alle 11.05, sempre domenica, sul canale satellitare. Giovedì prossimo andrà in onda, sempre sul Sky 829, Pianeta Caccia e Pesca, condotto da Adonella Turra. Ringrazio ancora Mauro Marocchi e vi do appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci. 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 Grazie a tutti.